Credo sia giunto il momento, credo sia giunto il momento per me di realizzare una video recensione, anche se poi in realtà credo sarà una chiacchierata a ruota libera su una serie tv che ho visto in questi mesi, di cui ho già realizzato un video qualche settimana fa senza nessun tipo di spoiler, però oggi voglio sentirmi libero di parlarne, non andrò a sviscerare chiaramente i singoli episodi, le singole stagioni, però voglio sentirmi libero di fare dei riferimenti ben precisi a determinati momenti della serie, quindi ne parlerò con spoiler ed infatti oggi voglio realizzare quella che è la mia video recensione della serie tv Sons of Anarchy, presente tra l'altro su Disney+, perché è proprio su Disney+, tra l'altro, che io l'ho recuperata nel corso delle settimane scorse. Prima di iniziare io vi ricordo rapidamente innanzitutto di iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto perché mi aiuterete a farlo crescere ancora di più, una volta iscritti attivate anche la campanella per non perdervi neanche uno dei prossimi contenuti, ed infine se il video vi sarà piaciuto lasciate un like il che sicuramente non guasta. Quindi vi ringrazio davvero se lo farete, quindi vi voglio ulteriormente precisare questo, voglio sentirmi libero di parlare di Sons of Anarchy con spoiler, quindi se non avete ancora mai visto questa serie tv, io vi consiglio innanzitutto di recuperarla il prima possibile, perché se ne sto parlando ovviamente perché mi è piaciuta tantissimo, come ho avuto modo di dire anche in diversi miei post, come ho avuto modo di dire anche in questo video che ho realizzato una decina di giorni fa, più o meno due settimane fa, però ecco voglio parlarne con spoiler, quindi non voglio in alcun modo rovinare la visione della serie a chi non dovesse ancora averla vista, quindi stoppate il video fra poco perché ne comincerò a parlare nel dettaglio, se volete avere però un'opinione generale senza spoiler di quella che appunto è la serie in questione, recuperatevi questo video precedente perché lì ne parlo in maniera molto generica e ripeto soprattutto guardate la serie tv, non perdetevela perché davvero ve lo dice uno che non è un grande amante dei prodotti seriali, chi mi segue da un po' di tempo lo sa io non guardo tantissime serie tv, solitamente mi, come dire, mi addentro nella visione di una serie quando ci sono tutta una serie di elementi in grado di convincermi, ecco con Sonzo Vanarchy tutto quello che doveva andare per il verso giusto è andato per il verso giusto, quindi datele un'occhiata, datele una possibilità. Per tutti gli altri, quindi, andiamo a parlare, ripeto a ruota libera, non sarà una vera e propria video recensione, voglio lasciarmi andare a delle riflessioni, voglio condividere con voi quelle che sono state le mie emozioni guardando questa serie. Io ho deciso di guardare Sonzo Vanarchy ormai più o meno, sì, qualche mese fa, eravamo alla fine del 2022 e più o meno durante le vacanze natalizie perché innanzitutto ho sentito il bisogno di approcciarmi ad un prodotto seriale dopo tanto tempo e chi mi segue da un po' lo sa, io generalmente per poter guardare una serie tv devo in qualche modo avere degli elementi a disposizione, innanzitutto la serie tv in questione deve essere conclusa, si deve essere in qualche modo, deve essere terminata, deve essere stata portata a termine e questa chiaramente è stata portata a termine ormai quasi dieci anni fa, nel 2014 se non ricordo male, questo per un semplice motivo perché se inizio a guardare una serie voglio essere sicuro che ci sia un finale, poi la serie potrà piacermi, potrà non piacermi ma voglio essere sicuro che finisca a scanso di trovarmi di fronte a qualcosa che potrebbe essere sospeso da un anno all'altro lasciando tutto quindi nelle mani del destino, quindi non accetto tutto questo nella stragrande maggioranza dei casi e quindi questa serie chiaramente si era già conclusa. Un altro elemento che mi aveva in qualche modo incuriosito era rappresentato dalle tantissime parole di natura positiva nei confronti di questa serie quando mi era capitato di leggere qualche recensione, qualche parere, qualche commento e quasi tutti, quasi tutti davvero ne parlavano in termini positivi, addirittura in termini entusiastici, quindi questa serie davvero ha soltanto pareri positivi in giro per il web, certo c'è chi anche a chi non è piaciuta, ci mancherebbe altro, ma io non ho quasi mai visto una monopolizzazione dei pareri del pubblico, dei pareri di coloro che l'hanno vista in termini così positivi, perlomeno, neanche Breaking Bad. Breaking Bad da tante persone viene reputata in una serie noiosa, una serie pallosa da affrontare, molto lenta, questo non è successo con Sonso of Anarchy. Sonso of Anarchy mi ha portato a trovare quasi tutti i pareri positivi, questo ovviamente non poteva far altro che incuriosirmi in maniera esponenziale e poi chiaramente anche la storia, la trama generale che avevo letto mi intrigava, questa banda di meccanici motociclisti, che in realtà chiaramente nasconde dietro le quinte qualcosa di losco, tanto che infatti lo sappiamo, sono dei trafficanti, soprattutto di armi, e che poi con il passare del tempo in realtà in qualche modo vengono coinvolti in attività illecite di diversa natura. Ecco, non voglio addentrarmi, ma non perché voglia fare spoiler, perché se siete qui è perché la serie l'avete vista, oppure magari non me ne frega niente di avere degli spoiler e quindi siete qui lo stesso, però ecco, non voglio più che altro raccontarvi stagione per stagione quella che è la serie TV, perché non avrebbe senso, voglio però farvi capire davvero quello che per me ha significato Sonso of Anarchy. Era da tempo, davvero da tantissimo tempo, che non mi sentivo così coinvolto in maniera totale da una serie TV. In realtà l'ultima volta che è successa una cosa del genere è stato con This Is Us, di cui tra l'altro anche in questo caso ho realizzato la video recensione ormai tanti mesi fa, però è anche vero che sono due prodotti completamente diversi, stiamo parlando di due cose completamente all'opposto, però anche lì in realtà mi era capitato di rimanere completamente, totalmente invischiato in quelle che erano i racconti della famiglia, appunto protagonista di quella serie, ma lo stesso discorso vale per Sonso of Anarchy, con la differenza, ripeto, che in questo caso ovviamente abbiamo una storia corale di diversa natura, con la possibilità da parte dello spettatore di sentirsi davvero parte di quel club, sentirsi parte di quella banda, sentirsi parte dei St. Cro, dei Sonso of Anarchy, e questo succede davvero fin dagli inizi, perché questa serie tra l'altro ha la grandissima capacità, nei primi episodi della prima stagione, di in qualche modo introdurti in maniera rapidissima in quelle che sono le vicende del gruppo, non ci sono lungaggini particolari, non ci sono spiegoni, non ci sono, come dire, tutta una serie di cose, diciamo tutta una serie di elementi che potrebbero anche annoiare lo spettatore e magari scoraggiarlo nel proseguire nella visione, non c'è un elemento che possa essere considerato prolisso nei primi episodi di Sonso of Anarchy, tutto si svolge davanti ai nostri occhi come se, diciamo paradossalmente, noi dovessimo già dare per scontato tutto quello che ci viene raccontato, però allo stesso tempo abbiamo la capacità di capire tutte le dinamiche che ci sono all'interno del club, dei Sun Crow, man mano che la storia ci viene raccontata, quindi è un connubio tra due elementi potenzialmente inconciliabili, cioè una sorta di, come dire, racconto in media stress, ma allo stesso tempo abbiamo la possibilità di cominciarli a conoscere tutti, di cominciare a conoscere tutti i componenti di questo club, di questa panda, e sentirci parte di quel club, io mi sono sentito parte dei Sun Crow dalla prima all'ultima stagione, dal primo all'ultimo episodio, e non era così scontato che succedesse, ripeto, non era così facile poter far sì che un effetto del genere potesse davvero verificarsi, e tra l'altro non è una cosa che riguarda soltanto il sottoscritto, quindi non è, sì, è sicuramente un parere soggettivo, è un parere personale, ma è un parere personale che mi permette di trovare riscontro anche in tantissime altre persone, e per questo motivo tra l'altro che Sonso Vanarchi, secondo me, riesce ad essere una serie potente nella narrazione dall'inizio fino alla fine, lasciandoti anche quel senso di nostalgia profonda una volta che la concludi, perché? Perché senti quasi di stare abbandonando delle persone che hai conosciuto in maniera effettiva nella realtà, quando così chiaramente non è, e questo succede davvero soltanto con le grandi serie, con i grandi prodotti seriali, questo non succede tra l'altro neanche con i film, bisogna dirlo, io, per quanto io preferisca sempre guardare film rispetto a serie tv, c'è da dire però che con i film io non riesco quasi mai, quasi mai, a provare quelle stesse sensazioni che io riesco invece a sentire al mio interno guardando una serie tv in grado di conquistarmi, perché? Perché sono due prodotti diversi, ovviamente il film, per quanto possa essere lungo, difficilmente dura più di quattro ore, sì, ci sono degli esempi nel corso della storia del cinema con film che sono durati anche più di quattro ore, ma sono delle sporadiche eccezioni, la serie tv invece per definizione è più lunga, anche ammesso che esista una sola stagione, ma sicuramente sarà più lunga di un film, e questo significa anche che la, come dire, dinamica di quelli che sono gli eventi raccontati, per forza di cose sarà differente, il film riesce a concentrare nell'arco di un paio d'ore, di tre ore, tutta quella che è la storia che deve essere raccontata, la serie tv invece si dilunga, diciamo diluisce tutti quelli che sono gli avvenimenti, tutte quelle che sono anche le evoluzioni dei personaggi, le relazioni tra i personaggi, li, appunto, diluisce, senza che però questo debba significare, come dire, qualcosa di negativo, perché? Perché è un modo anche per lo spettatore di prendere consapevolezza di quello che sta succedendo, di conoscere gradualmente i personaggi, e io credo che inevitabilmente poi quasi ti affezioni a loro, nel momento in cui chiaramente la serie dovesse conquistarti, ed è questo quello che è successo a me, io davvero con il passare dei giorni, soprattutto agli inizi della serie, mi sono reso conto di, davvero affezionarmi ai vari personaggi, a tutti coloro che facevano parte del club, dei Saint Crow, tutti, davvero tutti, poi chiaramente è ovvio, ci sono dei personaggi che vengono portati avanti dall'inizio quasi fino alla fine, personaggi più o meno secondari, personaggi che magari compaiono in alcune stagioni e poi scompaiono, però la bellezza di questa serie sta anche proprio nella capacità di andare a miscelare perfettamente queste varie personalità, questi vari personaggi, chiaramente, chiaramente anche grazie ad una straordinaria bravura degli attori e soprattutto grazie ad una straordinaria efficacia nella scrittura della serie, la serie è davvero perfetta, per me è quasi perfetta, io non sono riuscito a trovare dei grandissimi difetti nella scrittura della serie tv, di questa serie tv, tra l'altro ricordiamo l'ideata da Carl Sutter che io soltanto dopo, soltanto credo di essere arrivata alla quinta stagione e soltanto lì ho capito che in realtà Carl Sutter non è altro che il personaggio di Big Gate, non lo sapevo non l'avevo neanche capito perché mi ero talmente appassionato alla serie da non andare neanche ad esplorare quello che era stato il casting, quello che era il nome degli attori, quelli che erano i personaggi corrispondenti non avevo capito nulla, non avevo capito che Carl Sutter fosse Big Gate tra l'altro, parentesi, ho scoperto soltanto dopo che il personaggio, cioè l'attrice che interpreta Gemma di cui in questo momento non ricordo il nome, è sposata nella vita reale con l'attore Carl Sutter quindi con colui che fa, che interpreta Big Gate, questo non lo sapevo e tra l'altro mi ha fatto esplodere il cervello perché comunque sono due personaggi che nella serie tv non interagiscono tantissimo, lo sappiamo, anche perché Big Gate passa quasi la sua intera vita all'interno della serie in prigione, per quanto riguarda dicevo quindi il casting è perfetto anche questo perché tutti i vari attori riescono ad interpretare in maniera perfetta i vari personaggi anche ripeto quelli secondari, anche quelli che compaiono per pochi episodi, per poche stagioni e poi scompaiono, davvero tutto, tutto funziona a meraviglia in questa serie tv io l'unica cosa che ho percepito un po' di, diciamo, non proprio ad altissimo livello nella serie tv sonsovanarche è la sesta stagione la sesta stagione io l'ho percepita come una sorta di, probabilmente, campanello d'allarme che anche gli sceneggiatori forse hanno avuto, perché? perché la sesta stagione io l'ho percepita come la più debole, tra tutte ho percepito durante la visione degli episodi quasi come se non si riuscisse a trovare più il bandolo della matassa è come se quasi volessero allungare il brodo per cercare chiaramente di, in qualche modo, cavalcare l'onda perché è stata una serie tv comunque di successo nel momento in cui ho visto questa sesta stagione io ho anche capito, forse, che a rendersene conto sono stati anche gli sceneggiatori, sono stati anche gli autori tanto che, infatti, la settima stagione effettivamente è l'ultima quindi hanno, voglio pensare magari, che hanno capito che non si poteva più tirarla per le lunghe ed infatti con la settima stagione hanno voluto, in qualche modo, tirare le somme e arrivare a quello che poi è lo straordinario, stratosferico, emozionante, coinvolgente malinconico, struggente finale, perfetto finale di Sonso Vanarchy davvero io, un finale come quello di questa serie tv boh, andando a memoria, non è che me lo ricordi poi non è che ne ricordi tanti altri perché sì, Breaking Bad, io per esempio ho visto anche Dexter che a tante persone in realtà ha suscitato delusione per quanto riguarda il finale a me è piaciuto tantissimo tra l'altro, anche se devo ancora vedere l'ultima stagione che è stata realizzata qualche, un anno fa se non ricordo male un anno e mezzo fa quindi non so in realtà come le cose siano state poi descritte ma generalmente i finali di stagione cioè i finali di serie più che altro non sono sempre soddisfacenti al massimo Lost per esempio, un altro telefilm che mi viene in mente un altro prodotto seriale che mi viene in mente il finale di Lost ha fatto di poco discutere probabilmente ancora oggi generazioni di spettatori perché ci si interroga su quello che può essere il finale il significato del finale chiaramente soddisfacendo alcuni e deludendo altri il finale di Sonso Vanarchy anche qui va di pari passo con quello che vi ho detto poc'anzi per quanto riguarda l'intera serie, cioè non ha deluso quasi nessuno la scelta di far morire Jack Stellar in quel modo tra l'altro in quel modo quindi facendolo schiantare contro questo camione che gli viene addosso in una sorta di raggiungimento comunque del suo obiettivo finale perché lui trova la pace pur morendo, pur essendo consapevole che si sta suicidando è qualcosa di spettacolare io avevo i brividi guardando quel finale poi bisogna dirlo una colonna sonora in questa serie tv che è da applausi da ora fino al 2500 perché io credo che anche qui la scelta della colonna sonora di una serie tv può rappresentare anche lì un elemento in grado di decretarne o meno il successo è anche vero però che in molte serie tv la colonna sonora si fa da contorno può essere importante per esempio per quanto riguarda la sigla però tutto sommato non riesce ad essere diciamo strettamente fondamentale per la narrazione in sonso Vanarchy la colonna sonora non solo è meravigliosa per quanto riguarda la sigla è meravigliosa sempre perché tra l'altro accompagna in maniera perfetta in maniera perfetta tutte le sequenze della serie tutte davvero non c'è io non ho trovato una singola scelta di canzoni in questa serie che mi sia risultata stonata tra l'altro molto spesso le canzoni accompagnano il finale dell'episodio accompagnano chiaramente determinati momenti critici della narrazione non c'è stato un singolo momento in cui io abbia avuto la percezione di qualcosa di sbagliato alle orecchie e agli occhi chiaramente quindi un'associazione meravigliosa una miscela davvero esplosiva dall'inizio della serie anche qui fino al finale fino al finale perché poi il finale con quella colonna sonora con quella canzone ma che cosa vi sto a dire che cosa vi sto a dire che ho la pelle d'uoca anche adesso mentre ne sto parlando e sono già passati 14 giorni più o meno due settimane da quando ho concluso Sonso Manarchi e ancora mi stanno venendo le lacrime agli occhi mentre ci penso perché finale migliore di questo non poteva essere deciso tra l'altro è un finale struggente quello di Sonso Manarchi perché? perché non fa altro che andare a riassumere anche quello che è il personaggio di Jack Stellar che chiaramente è il personaggio principale della serie perché questo? perché Jack Stellar chiaramente per tutta la serie tv cerca chiaramente man mano che poi gli episodi procedono man mano che la storia va avanti non fa altro che provare in qualche modo a far ritornare quello che è il club dei Sonso Manarchi dei Saint Crow ad una situazione che era stata quella ideata o perlomeno pensata da suo padre John Tellar che poi chiaramente fa una brutta fine lo sappiamo e perché? perché John Tellar voleva in qualche modo far allontanare il club da tutte le attività illecite nelle quali purtroppo si era impelagato anche grazie o a causa della presenza di di Clay di Clay Morrow chiaramente e lui Jack Stellar per tutta la serie tv in realtà non vuol far altro che provare ad allontanare i Saint Crow da tutto questo poi in realtà non ci riesce non ci riesce tra l'altro non per colpa sua non è perché lui non voglia in qualche modo come dire portare il suo club verso dei lidi legali in realtà è come se la vita quasi stesse impedendo di farlo quasi come se si frapponesse tra lui e questo obiettivo si frapponesse continui ostacoli ostacoli rappresentati per esempio da quello che è il difficile rapporto con il patrigno quindi Clay Morrow con quello che è il difficile rapporto anche con la madre perché per quanto il rapporto con la madre con Gemma sia quasi un rapporto di simbiosi ma in realtà così non è è un rapporto malato è un rapporto che ha qualcosa di sbagliato di fondo lo si percepisce dall'inizio fino alla fine tanto che infatti poi in una sorta di diciamo tragedia in mane Jack Stellar è costretto a uccidere la madre a uccidere la madre perché? perché ha scoperto che è stata lei ad aver ucciso l'amore della sua vita quindi Dabtara quindi chiaramente stiamo parlando davvero di qualcosa di boio io non ho neanche parole per descriverlo e tra l'altro tra l'altro dopo aver ucciso la madre Jack Stellar non fa altro che prendere consapevolezza del fatto che l'unico modo per poter salvare il suo club per poter salvare quelle poche persone che forse sono rimaste attorno a lui e che gli vogliono ancora bene l'unico modo per poterlo fare è suicidarsi l'unico modo per poterlo fare è togliersi la vita non vuole neanche che siano gli altri i suoi compagni ad ucciderlo quindi non vuole che la falciatrice la donna dalla grande falce possa in qualche modo lasciare il segno nei suoi compagni non vuole addossargli la colpa non vuole che siano loro a togliergli la vita lui vuole in qualche modo far tutto da solo cercando in qualche modo di raggiungere l'obiettivo che si è prefissato seppur non riuscendo a godersi il risultato fondamentalmente davvero struggente al massimo è un personaggio di una complessità devastante quello di Jack Stellar per quanto in alcuni momenti della serie possa risultare un po' stereotipato per i suoi modi di fare per il comportamento e soprattutto questo ripeto l'ho trovato nella sesta stagione in realtà così non è così non è perché deve fare i conti con dei demoni interiori che si porta praticamente da bambino la figura di un padre che chiaramente manca perché sì ha avuto il patrigno Claymorrow ma in realtà è un patrigno con cui in realtà le cose non sono mai andate per il verso giusto ed infatti quello si dimostra tutto questo viene in qualche modo amplificato dalle scelte che fa Clay e che non trovano d'accordo Jacks tanto che infatti poi alla fine sarà lo stesso Jacks a togliere la vita a Clay quindi diciamo che è circondato sì di persone che gli vogliono bene e queste fanno parte soprattutto del club non tanto della famiglia ma del club una donna che lo ama in realtà e che con la quale ha anche la possibilità di costruire una famiglia che però praticamente gli viene tolta via gli viene completamente strappata dalle mani è un personaggio che non riesce ad avere probabilmente felicità nella vita non riesce ad avere un briciolo di serenità in quei momenti in cui lo vediamo sereno in realtà c'è sempre come dire la spada di Damocle sulla sua testa relativamente al fatto che qualcosa andrà per il verso sbagliato andrà in maniera storta un personaggio che davvero fa quasi verrebbe a dire fa quasi pietà fa quasi pena ma in realtà è la complessità di fondo di Jax che lo porta a suscitare queste emozioni complesse anche nello spettatore perfetto uno dei personaggi in realtà migliori probabilmente del mondo delle serie tv non vorrei sbilanciarmi più di tanto ma non ho una grande conoscenza delle serie perché ripeto non ho una una grande passione per i prodotti seriani me ne mancano davvero ancora tantissime da recuperare ma Jax Teller mi rimarrà incastonato nella memoria per sempre per sempre perché è davvero qualcosa di indimenticabile come del resto tutti i suoi compagni di club da Bobby chiaramente Tig quindi tutti coloro che lo circondano tutti coloro che lo circondano e che lo accompagnano forse in maniera anche inconscia in maniera probabilmente involontaria lo accompagnano fino al suo destino fino alla morte cosa che magari nessuno riesce ad accettare fino in fondo ma anche se poi alla fine capiscono essere l'unica opzione possibile per salvare il club per poter portare avanti l'obiettivo comune cioè portare avanti il club dei Saint Cro dei Sonsovanchi davvero spettacolare a dir poco poi la serie in realtà gode di una messa in scena favolosa meravigliosa c'è questa ricostruzione dei soborghi americani che mi ha conquistato fin dall'inizio siamo in questa periferia di questa cittadina che risulta essere davvero quasi una cittadina malata una cittadina che non riesce ad ammire in alcun modo ad una salvezza ad un spirito di legalità che viene sempre messo in discussione ovviamente quindi in questo senso è un modo di far immergere lo spettatore in una realtà che credo credo non vorrei sbilanciarmi più di tanto ma sia comunque realistica cioè se noi andiamo a prendere in considerazione le periferie americane io credo che non è che la situazione sia molto diversa da quella che viene raccontata nella serie tv Sonzo Vanarchi ovviamente viene estremizzata viene amplificata perché sembra che poi tutte le cose succedano lì quindi è ovvio che è un qualcosa che deve necessariamente presupporre anche la sospensione dell'incredulità da parte dello spettatore dobbiamo accettare tutta una serie di dinamiche che ovviamente sono necessarie mettiamola così ma come sempre dico la sospensione dell'incredulità viene favorita anche da un'ottima scrittura del prodotto in questione quindi se noi in qualche modo riusciamo ad accettare più o meno inconsciamente più o meno involontariamente quello che ci viene raccontato anche quando non è proprio realistico al 100% vuol dire che il prodotto in questione funziona senza se e senza ma e questa serie funziona funziona da morire funziona davvero dall'inizio alla fine funziona in maniera spettacolare tra l'altro quando ho iniziato a vedere questa serie e poi ne ho parlato anche non tanto qui su youtube ne ho parlato più che altro nella mia pagina facebook ho chiaramente lasciato un parere temporaneo chiaramente come dire parziale ecco più che altro sulla prima stagione dicendo che appunto mi ero convinto nel guardare Sonsovara che avevo completato la prima stagione che mi era piaciuta tantissimo una volta scritto questo post nei commenti mi sono arrivati quasi interamente dei commenti che mi portavano in qualche modo a continuare la visione tutti quasi tutti dicevano beh se ti è piaciuta la prima stagione di Sonsovarti non devi fare altro che continuare questa serie perché perché la serie tv andrà soltanto a migliorare potrai soltanto godertela ancora di più questo mi aveva incuriosita chiaramente in maniera maggiore perché non è una cosa così scontata da trovare nei prodotti seriali cioè è facile in alcuni casi che magari la prima stagione sia entusiasmante sia perfetta realizzata in maniera stratosferica e poi magari con il passare delle stagioni la cosa tenda un po' a ridimensionarsi ecco questo non succede con Sonsovarti perlomeno fino alla sesta stagione dalla prima stagione fino alla quinta è un crescendo continuo è un crescendo tra l'altro imponente è un crescendo un crescendo convincente viene sempre messa più carne al fuoco per quanto riguarda ripeto i personaggi le loro dinamiche tutto quello che circonda anche il club dei Saint Croc ma tutto questo in maniera davvero perfetta la serie non perde mai il bandolo della matassa non perde mai il filo il filo rosso che la conduce dall'inizio alla fine niente di tutto questo succede perlomeno non perlomeno diciamo dalla prima alla quinta stagione questo succede in parte nella sesta e non succede neanche nella settima quindi è davvero perfetta anche nel modo di svilupparsi e qua bisogna dare chiaramente credito e più che altro bisogna dare merito agli sceneggiatori all'ideatore ai registi perché non è una cosa così scontata ed avevano ragione tutti coloro che mi dicevano continuala guardala perché da adesso in poi non farai altro che godertela sempre di più le stagioni andranno solo a migliorare e così è stato così è stato dalla prima alla quinta è stato davvero qualcosa di totalizzante per tutta una serie di cose che succedono personaggi che chiaramente poi ci abbandonano io davvero non so che cosa mi è successo mentalmente quando è morto Opie davvero una cosa incredibile una morte che sì mi aspettavo per molti aspetti ma che speravo non avvenisse mai davvero straziante straziante davvero quindi è chiaro che quando una serie riesce a regalarti tutte queste sensazioni tutte queste emozioni e lo fa in maniera continua mi pare anche superfluo doverlo dire è una serie riuscita è una serie quasi davvero perfetta è una serie che tra l'altro io mi sento di considerare anche a tutti perché io non sono un grande appassionato del mondo dei motori non sono un grande appassionato diciamo di quello che può essere il club non ho mai avuto una grande come dire una grande affinità per quello che è il mondo descritto nella serie tv son so vanarchi eppure eppure nonostante questo la serie mi ha conquistato immediatamente quindi non oso immaginare che l'effetto che potrebbe fare in tutti coloro che magari hanno una passione per le per le motociclette hanno una maggiore predisposizione anche per questo tipo di storie non ho idea davvero se è piaciuta a me a maggior ragione nei loro confronti è una serie che per questo motivo io credo possa essere facilmente considerata universale è chiaro è una serie che poi magari riesce ad essere più difficilmente digeribile per coloro che possono essere un po' più deboli di cuore un po' più deboli di stomaco non che si veda chissà che non è mai una serie che sfocia nello splatter mettiamola così però sì è un po' dura è un po' truculenta in alcuni momenti ma niente di particolarmente come dire disturbante ecco lasciatemi passare il termine io più passano i giorni e più ripenso con nostalgia con malinconia forse anche a Sonso Vanarchy perché perché sento di avere vissuto un viaggio sento di avere davvero compiuto un viaggio non è una cosa così frequente neanche con le serie tv che mi sono piaciute tantissimo ho avuto questa sensazione ripeto io ho visto Breaking Bad ho visto Dexter per esempio Lost chiaramente è molto diversa ma anche Friends per molti aspetti ma la sensazione che ho avuto con Sonso Vanarchy è qualcosa di forse anche nuovo per il sottoscritto davvero la percezione e se vi posso appunto fare il paragone è quella di un viaggio di aver iniziato proprio con i primi episodi di questa serie un viaggio insieme a questi questi personaggi che inizialmente non conosci ai quali poi però ti affezioni inevitabilmente a tutti ti affezioni anche a coloro che magari non meriterebbero un briciolo della tua attenzione non meriterebbero neanche un briciolo del tuo rispetto del tuo affetto ma ti affezioni lo stesso inevitabilmente perché sono scritti in maniera divina e entri a far parte del loro mondo entri a far parte di quello che è il mondo dei same crew ed inizi davvero un viaggio che si conclude splendidamente alla settima stagione si conclude in maniera straziante ma è giusto che si concluda così e così si deve concludere quindi una serie davvero spettacolare spettacolare per la messa in scena spettacolare da un punto di vista registrico spettacolare per quanto riguarda i costumi chiaramente che sono diventati iconici a dir poco i gilet dei sonsovanarch li potete trovare anche su internet se fate una cerca su amazon o anche su ebay li trovate perché sono diventati un'icona anche appunto del mondo seriale chiaramente e sono rappresentativi di questo prodotto davvero io davvero ho difficoltà nel parlare in maniera oggettiva di questa serie me ne rendo conto ed infatti per questo motivo questa video recensione in realtà non è una vera e propria video recensione ma è una chiacchierata che io voglio fare con voi proprio per potermi liberare di tutti quelli che sono i pensieri le emozioni che ho maturato pattorito guardando sonsovanarchi e magari trovando riscontro anche nelle vostre opinioni non è una recensione perché non ne posso parlare in maniera oggettiva me ne rendo conto forse con gli occhi dell'innamorato non riesco a vedere quei difetti che forse ci sono anche se ripeto la sesta stagione a me non ha come dire emozionato più di tanto non mi è piaciuta più di tanto ma è probabile qualche difetto ci sarà qui e lì non lo metto in dubbio io non lo riesco non li riesco a vedere non li riesco a cogliere neanche adesso che sono passate già diverse settimane dall'avere concluso la serie ma non mi interessa fondamentalmente mi interessa poco tanto che infatti è proprio questo anche quello che io voglio trovare nelle serie io nel modo di approcciarmi il modo di approcciarmi alle serie tv è nettamente diverso da quello che io utilizzo mettiamola così per guardare un film ormai nel guardare un film in maniera forse involontaria ho un approccio tra mille virgolette critico ora io non sono un critico ovviamente ci mancherebbe altro ma nel momento in cui guardo un film la mia testa inevitabilmente comincia a fare dei ragionamenti che ormai non riesco a fermare poi in realtà a seconda anche del film se sto parlando se stiamo parlando di un film d'animazione o un film per ragazzi o un film che poi non d'animazione non necessariamente ma ci sono dei film d'animazione che valgono molto di più di tanti live action ma se stiamo parlando di un film senza grandi pretese ecco mettiamola così io chiaramente il cervello lo spengo e basta mi godo il film amen ma se mi sto se sto in qualche modo approcciandomi ad un film che invece potrebbe avere la possibilità di regalarmi degli spunti di interesse ecco lì l'approccio diventa davvero critico nel senso diciamo come dire nella definizione del termine non perché io sia un critico ma proprio perché comunque ci ragiono su con le serie tv non mi capita quasi mai perché non è che io faccia chissà quali ragionamenti nel guardare una serie anche perché ripeto un prodotto seriale essendo molto più lungo non credo si presti particolarmente a questo tipo di valutazioni e quindi me la godo alla stragrande fondamentalmente è come quando guardo un film senza pretese quei film senza pretese me li godo alla grande mi godo alla grande anche queste serie tv quando mi conquistano riescono a mantenere viva l'attenzione dall'inizio alla fine ed è l'apoteosi di tutte le apoteosi meravigliose io davvero sono sovara a chi ve la consiglio la trovate su disney plus nel momento in cui sto registrando questo video ma anche ammesso che non dovesse trovarla più perché magari nel corso delle settimane nel corso dei mesi le cose cambiano magari state vedendo questa video recensione a mesi di distanza da quando l'ho pubblicata vi dico comunque che esiste il cofanetto che io in questo momento non ricordo dove ho messo ma ve l'ho mostrato in qualche video probabilmente non lo ricordo dove l'ho messo ma esiste è uscito il cofanetto integrale in italiano di tutta la serie quindi di tutte le stagioni di sonso vanarchy lo trovate in tutti i principali store online lo trovate nei negozi fisici acquistatelo io tra l'altro l'ho acquistato a scatola chiusa perché? perché l'ho voluto prenotare e quindi poi acquistare quando ero arrivato alla quarta stagione più o meno a metà della quarta ho deciso di acquistarlo e di averlo quindi non sapevo come la serie tv si sarebbe conclusa come si sarebbe sviluppata nelle ultime stagioni l'ho voluto prendere è stato un acquisto azzeccatissimo perché poi alla resa dei conti la serie mi è piaciuta da morire quindi sono contento di averlo io vi consiglio di recuperarlo perché ripeto per me la serie tv vale tutte le ore spese per poter guardare tutti gli episodi sono 7 stagioni ci sono 13 episodi in ogni stagione e la durata orientativamente oscilla tra i 45 e i 50 minuti soprattutto nella diciamo dalla prima alla sesta stagione tranne quegli episodi finali che poi durano solitamente un po' di più durano un'ora un'ora e un quarto credo che l'ultimo episodio finale della settima stagione se non ricordo male dura intorno all'ora e venti inutile dire che quell'ora e venti vola via in una maniera incredibile quindi per quanto abbia la durata di un breve film in realtà dura e diciamo scivola via come se non ci fosse un domani quindi tranquilli non fatevi spaventare dalla durata di questi episodi non fatevi spaventare dalla presenza di 7 stagioni di 13 episodi per stagioni perché se la serie tv riesce a conquistarvi fin dall'inizio avete fatto bingo avete fatto davvero tombola perché vi capiterà la stessa cosa che è successa a me e siccome io confermo quello che mi hanno detto tante persone cioè che la serie tv non fa altro che migliorare di stagione in stagione beh dovreste continuarla quindi davvero son somana che è stata un'esperienza meravigliosa è stato un viaggio meraviglioso che porterò dentro il mio cuore praticamente per sempre una serie tv che davvero non credo davvero di poter ulteriormente celebrare perché rischierei di cadere nelle banalità di ripetermi in maniera in maniera prolista quindi non voglio farlo voglio comunque invitarvi a guardarla datele una chance datele una possibilità perché vi potreste trovare di fronte forse davvero una delle migliori serie mai realizzate una delle vostre serie preferite chi lo sa questo è diventato per me Sons of Anarchy una delle mie serie tv preferite quindi questo era quello che vi volevo raccontare ripeto con una video recensione molto sui generis mi sarò dimenticato tante cose lo so benissimo non ho voluto approfondire più di tanto i vari personaggi lasciarmi andare anche a delle valutazioni su quelle che sono su quelli che sono anche importanti snodi narrativi avrei potuto raccontarvi chiaramente la storia di tanti personaggi ma anche soprattutto il rapporto tra Jack Stellar e Clay Morrow davvero però non voglio non voglio farlo perché? perché credo sia davvero qualcosa in grado di probabilmente anche rendere troppo semplicistica la valutazione di questa serie tv godetevela se volete guardarvela godetevela se siete qui spero che in realtà l'avete già vista ma potreste anche essere qui senza fregarvele niente degli spoiler perché? perché è un'esperienza da vivere non la si può raccontare nel dettaglio non ha senso andare a raccontare per filo e per segno tutto quello che succede perché tutto quello che succede bisogna goderselo quindi davvero una serie tv meravigliosa meravigliosa davvero quindi questa era la mia opinione la mia video recensione un po' particolare su Sonso Vanarchy chiaramente non mi rimane che chiedere a voi che cosa ne pensate l'avete vista? vi è piaciuta? non vi è piaciuta? fatemi sapere chiaramente la vostra opinione qualunque essa sia perché è sempre la benvenuta qui sotto nei commenti e vi leggerò come sempre con molto piacere quindi vi aspetto qui sotto io vi ringrazio come sempre per il tempo che decidete di regalarmi guardando i miei video anche quando realizzo dei video particolarmente lunghi perché siamo ormai oltre la mezz'ora e quando mi lascio andare a queste chiacchierate davvero senza un copione scritto perché non sono delle vere e proprie video recensioni quindi grazie davvero di cuore io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto perché questo mi aiuterà a farlo crescere ancora di più attivate la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti e poi se il video vi è piaciuto lasciate un like il che sicuramente non guasta in descrizione trovate altri modi per potermi supportare innanzitutto con la funzione super grazie potete lasciare un commento in evidenza attraverso una piccola donazione al canale poi potete usare la mia wishlist Amazon se volete farmi un regalo un link Amazon che potete usare per fare qualunque acquisto perché voi non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà girato da Amazon al sottoscritto ed infine potete seguirmi anche in tutti i miei canali social da Telegram, Twitter, Instagram così come anche la mia pagina Facebook Doctor Cinema noi ci becchiamo in una prossima video recensione in un prossimo video in una delle tante rubriche che sto portando avanti nel mio canale io come sempre vi auguro anche una buona continuazione di giornate e ci vediamo presto ciao a tutti